Gravissimo lutto per Giovanni Allevi. È morta la sorella Maria Stella, 57 anni. Il corpo privo di vita è stato ritrovato nella casa d'Ascoli Piceno, dove la donna viveva. Stando alle prime informazioni a dare l'allarme, sarebbe stato un familiare che non riusciva a mettersi in contatto con lei. Secondo gli inquirenti, la morte sarebbe dovuta ad un gesto volontario, benché non siano stati trovati i biglietti di addio, spiegazioni del gesto. Sul luogo sono intervenuti già i carabinieri. La donna che viveva da sola in casa, nella vita faceva l'insegnante ed era una pianista, che come il fratello era diplomata al conservatorio. Non sono molte le notizie su quanto è avvenuto ad Ascoli Piceno, il gesto della donna però è avvenuto a poche settimane dall'annuncio della malattia del fratello. Il compositore Giovanni Allevi, che ha annunciato sui social che gli è stato diagnosticato un mieloma.